Con Mimmo D'Alessio, vicepresidente nazionale vicario dell'Accademia Italiana della Cucina, commentiamo la finale nazionale del Festival del Brodetto dell'Adriatico al ristorante Al Vecchio Teatro sulla passeggiata orientale di Ortona. Primo posto per il Molise, secondo posto per la migliore interpretazione, il migliore equilibrio dei sapori al Veneto, per la migliore presentazione la Puglia. Ecco, questi tre piatti che rappresenteranno il versante Adriatico nella finalissima nazionale di fine ottobre, quando si uniranno i due mari, il mare Adriatico e il mare Tireno, commentiamo i risultati con Mimmo D'Alessio. Beh, abbiamo assistito a una gara davvero molto interessante, con sei regioni, tutte quante, con dei piatti davvero succulenti. La differenza è stata di poco, ma abbiamo cercato di privilegiare anche i prodotti che sono arrivati dal territorio. E devo dire che c'è stata questa gara che ci ha, come dire, riempito di soddisfazione perché abbiamo provato un viaggio immaginario su tutta la costa dell'Adriatico. Abbiamo visto che piccole differenze, però fanno grande una nostra cucina italiana. Ma cosa ha avuto di più il brodetto alla Termolese rispetto agli altri? Ci dica la verità. Il sapore, allora, il brodetto, lo dice la parola stessa, la cosa più importante del brodetto è il brodo. È la risultante del sapore che ogni pesce conferisce al brodo che si crea. E devo dire, il pare giusto in quel brodo è stata un'esperienza molto esaltante. Questo piatto viene chiamato brodetto di pesce, zuppa di pesce, guanzetto di pesce. Lei come lo definirebbe per farlo capire anche a coloro che non l'hanno mai provato? Ma intanto io penso che ci sia una differenza sostanziale, anche se poi si fa molta confusione con la terminologia. Faccio un parallelo con la carne. Allora, quando noi vogliamo un buon brodo, prendiamo della carne, ci facciamo il brodo, e la carne è il risultato, la carne si mangia ma non è una carne eccezionale. Quello che ci interessa è il brodo, mentre invece quando vogliamo un buon bollito, il brodo risulta scarso, di scarso sapore, però la carne viene saltata da quel tipo di cottura. Lo stesso vale nel brodetto. Nel brodetto, lo dice la parola stessa, è il brodo che vince, per cui in questa occasione noi riteniamo che il sapore è quello che dà la sommatoria dei sapori che ogni pesce conferisce al brodetto e poi l'acqua di cottura, l'olio, il pomodoro, il peperone riescono a dare l'esaltazione del gusto.